L'abbattimento delle barriere alla barriere della qualità nasce un altro concetto. Il turista, c'è il sabbile, il turista non è il sabbile, ma è il turista. Allora, questo cambia completamente le cose, perché io non mi devo più vendere come paese perché ho una struttura accessibile. Io devo essere un paese al turista unirei di fare il turismo con tutti, e io devo andare a fare in vacanza o fare un divertimento di vacanza, un pazzo romantico o sportivo, quello che ti pare, perché invece sul sabbile ci si trasfronti, ci si parla solo di termini accessibilitati. Perché una persona con questa abitazione potrebbe essere successo e potrà aver voglia di lavorare a casa. E io credo che sì, potrà aver voglia di lavorare a casa sposte, perché ci si chiama. Inserire di tempo, di accessibilità in questo tempo è stato questo. Per capire che l'accessibilità non è rispondere a un problema di abbandonamento solo o di altre componenti strutturali, ma è cambiare la puntata della cultura sul turismo. Questa è la frase che inserita lì per la strategia, cioè è un concetto trasversale di tutte le azioni del piano, quindi tutte le azioni, dovranno imprevedere il tema di accessibilità, come strategia e intervalizzazione dei doni, poter rafforzare siccome diretti accessibilità fisica e culturale e quali interviene per la parte della cultura turistica. Questo termine ha una percezione che riguarda l'accessibilità della cultura turistica, soprattutto in mezzo alla stessa distinzione, alla loro potenzione di costruzione. Questo significa... Grazie. Grazie. Grazie.